Ciao ragazzi, io sono Francesca Bardelli Nonino, sono la sesta generazione della famiglia Nonino e sono conosciuta sul web per essere l'influencer della grappa, ma in realtà dietro questo titolo c'è un lavoro più istituzionale, più classico, sono la responsabile della comunicazione web della Nonino Distillatori, mi occupo del mercato americano e di quello russo e poi faccio tutti di extra visto che lavoro in un'azienda di famiglia e potete immaginare un po'. L'azienda dove lavoro e la famiglia di cui faccio parte, la Nonino Distillatori, è una realtà in Friuli dal 1897, noi quest'anno abbiamo compiuto 126 anni come famiglia di distillatori e se devo farla proprio breve 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 breve, il motivo per cui la mia famiglia è nota in tutto il mondo è perché mio nonna e mia nonna il primo dicembre 1973, ormai 50 anni fa, hanno rivoluzionato completamente il modo di produrre e proporre la grappa nel mondo creando la prima grappa di monovitigno. La cosa che è stata incredibile è che distillare vinaccia di un solo vitigno per la prima volta ha dimostrato al mondo come la grappa non era soltanto uno sgroppo a budella, il distillato in grado di bruciare anche la fame e il freddo, ma poteva diventare l'anima dell'uva nel bicchiere e ha trasformato questo prodotto in un'eccellenza che rappresenta il medium Italy del mondo. Io credo assolutamente che anche i giovani che hanno l'età per bere si possano appassionare alla grappa perché sono una grandissima sostenitrice della filosofia, non esistono prodotti vecchi ma solo narrazioni noiose e il consumatore di oggi è un consumatore che vuole bere meno ma bere meglio, proprio per questo è un consumatore ideale per noi perché comunque noi parliamo di un consumo consapevole, di un consumo rispettoso di quello che rappresenta il prodotto. Oggi le persone vogliono sapere quello che stanno bevendo e soprattutto sono ispirati dal fatto anche che un prodotto rappresenti la storia, la tradizione, la cultura di un paese perché non diventa più soltanto un distillato o un cocktail ma diventa un modo di sperimentare culture, paesi diversi e quindi penso che per questo motivo qua la grappa sia assolutamente ideale e infatti noi siamo sostenitori da grandissimo tempo del concetto Be Brave Mix Grappa e di far provare questo meraviglioso distillato anche nei cocktail perché sono tanta tanta roba. Il titolo di influencer della grappa che è un titolo che ho accolto a braccia aperte con il cuore colmo di gioia è nato assolutamente per caso. Mi ricordo ancora il video esatto che mi ha permesso di diventarlo. Ho creato questo contenuto ad agosto dal giardino di mia nonna dove c'è un orto dove coltiva pomodori e questi pomodori hanno una particolarità sono fertilizzati con la vinaccia esausa ossia con la vinaccia che noi abbiamo distillato per ottenere la nostra grappa e in questo video mostravo questi pomodori che vengono grandi così sono buonissimi dolcissimi e dicevo che siccome vengono così belli così buoni perché prendono tutto l'amore che ne abbiamo messo nel distillare la nostra grappa quando ho condiviso questo video sul mio profilo linkedin sono stata contattata da un giornalista del messaggero Veneto Fabio Poloni che se vede il video lo ringrazio e che ha fatto uscire l'articolo intitolato la grappa la sua influenza la sesta generazione rifà il lucanonino e ho detto oh mio dio cioè durante l'intervista mi ha detto sì perché tu ormai sei l'influenza della grappa e ho detto ma veramente io esiste questa cosa? esiste questa cosa lo so io però per me è stata diciamo la conclusione di un percorso che avevo cominciato ormai quasi sette anni fa nel senso che era da tanto tempo che cercavo di trovare il modo giusto di far appassionare le persone anche online di questo meraviglioso distillato devo dire che le generazioni precedenti noi siamo attualmente tre generazioni viventi in azienda io sono la sesta però c'è la generazione del nonno della nonna di mamma e zia e adesso anch'io che sono la prima della sesta ad essere entrata ed è stato accolto con grandissimo orgoglio in particolare devo dire la persona più entusiasta è stata la nonna che per prendermi in giro mi chiama l'influenza e poi dice l'influenza della grappa sì e poi dice sempre sì perché Francesca tu devi comunicare a tutti la grappa tu sei l'unica del settore cioè non è che il vino ha il suo influencer o che ne so la pasta ha la sua influencer cioè noi abbiamo l'influenza della grappa in azienda e si casa tantissimo a me fa tanto felice per noi la nostra la nostra storia la nostra grappa è rappresentata dal lavoro di tante incredibili donne noi abbiamo avuto la prima donna amasso distillatore in italia la mia bisnonna silvia milocco nonino dopodiché comunque anche mia nonna diciamo che essere una donna imprenditrice che lavorava nel mondo degli alcolici negli anni 60 sicuramente non è stato facile e poi comunque anche in azienda in azienda noi abbiamo tantissime donne la zia Betty la nostra CEO per ridere dice che dovremmo mettere la quota blu quindi comunque dietro dietro la grappa c'è il talento l'impegno di tante incredibili donne che sia sono nella mia famiglia ma che lavorano anche nella nostra azienda e secondo me da un certo punto di vista questo da un prodotto diverso perché c'è quel punto di vista quell'approccio alla distillazione anche che secondo me è femminile l'annolino distillatore è stata la prima distilleria italiana il primo premio di graffa vincere il primo di migliore distilleria del mondo 2019 campioni del mondo e devo dire che è incredibile pensare che la prima distilleria italiana a vincere un premio di questo tipo sia proprio una distilleria di graffa quello stesso distillato che veniva distrattato tantissimo in passato adesso ha portato questo importantissimo riconoscimento per tutti gli italiani e devo dire che una cosa che mi ha fatto tanto piacere è stata che gli italiani in generale hanno accolto con grandissimo orgoglio è stata una vittoria condivisa e sentita in tutta Italia per noi la nostra grappa è storia è cultura è incredibile pensare che quando mio nonno e mia nonna hanno pensato di creare la prima grappa di monovitigno da lì è partita non soltanto un percorso che ha portato alla qualità assoluta per la grappa rivoluzioni nel mondo della distillazione ma da lì è nato anche un premio culturale perché dopo aver distillato la prima grappa di monovitigno che ho qua nella piccolitte con monovitigno nonino che è un vitigno autoctono al piccolitte mia nonna e mia nonna avevano pensato di distillare altre grappe di vitigni autoctoni frulani di un solo vitigno quindi dopo la piccolitte mia nonna era andata a cercare le vinacce di schioppettino però quando aveva cercato di ottenere queste vinacce i contadini i vignaioli avevano detto l'avevano detto sì noi ti possiamo dare queste vinacce ma sul documento non ti possiamo scrivere che sono vinacce di schioppettino ma le vinacce di uva rosa perché lo schioppettino non è stato riconosciuto come vitigno vitis vinifera dalla comunità europea e quindi noi non lo possiamo vinificare in maniera ufficiale è diventato illegale oltre allo schioppettino era stato dimenticato anche il tazze l'enghella il bolla gialla e il pignolo il mio nonno e mio nonno per cercare di salvare i vitigni autoctoni frulani hanno fatto questo premio che inizialmente era un premio proprio volto alla salvaguarda e alla tutela del patrimonio vitivinicolo frulano e dopo che sono stati riconosciuti e salvati hanno fatto diventare questo premio primo un premio letterario poi un premio internazionale ed è diventato oggi un premio che ha anticipato ben sei premi nobel di cui l'ultimo giorgio parisi premio nobel per la fisica 2021 e premio nonino maestro del nostro tempo 2005 il primo giugno per me sarà la prima volta che vengo a lugano sono casatissima e chiaramente voglio portare con me tutta la friulanità un sacco delle mie meraviglie però nonostante comunque ci sarà la possibilità di conoscersi dal vivo di brindare insieme non basta io vi aspetto sempre in distilleria perché è l'unico modo per capire veramente tutta l'amore la passione e la delizione che mettiamo dietro le nostre gappe grazie grazie grazie